Adunate naziste sontuose e scenografiche, falò di libri teatralmente gettati tra le fiamme per volontà del ministro della propaganda nazista Goebbels. L'aspetto cupo e marziale affascinano il giovane attore Fahit Arlan. Pur non essendo un antisemita, crede che l'arte non possa subire alcun condizionamento, e che sia proprio quello il momento giusto per raggiungere il successo. Ciò avverrà, ma sarà proprio Goebbels ad obbligarlo a girare Judd Sus, il film che passerà alla storia come il simbolo dell'antisemitismo. Sarà infatti l'antisemitismo, gli eventi storici, le leggi razziali e ogni male perpetrato dall'uomo ad altri uomini, il tema centrale dell'incontro di battito che Simona Masciaga tratterà con la scrittrice Nadia Crucitti, che ha scritto il libro Berlino 1940, La Convocazione. Tratto da una storia vera, Nadia Crucitti nel suo libro narra come la scelta personale tra il vedere e il non sentire possa mettere a tacere la propria coscienza di fronte ad una dittatura criminale già preannunciata. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18 all'indirizzo facebook.com. slash albesiterno